Amici e amiche di Player Inside, benvenuti. Oggi siamo qui con una recensione particolare, perché dal punto di vista di un vero videogiocatore che con questa bestia qui ci deve giocare principalmente, anche perché dovrebbe essere fatta per questo, no? Si è parlato tanto della potenza di Rogue and Lie e se volete scoprire tutte le caratteristiche tecniche, addirittura i ragazzi l'hanno pure smontata, hanno fatto tutti i test del caso Dazman e Tony quali sono, vi rimando al video dei ProdiGeek. ProdiGeek Che hanno analizzato la console dal punto di vista, se vogliamo, di PC gamer incalliti e di appassionati di geek, appunto, cosa che io sono anche per certi versi, ma sempre in funzione del fatto che mi permettano di videogiocare nella maniera più comoda possibile. E secondo me Rogue and Lie, sotto questo punto di vista, non lo fa proprio al 100%. Ci sono tutti i Pro e i Contro di avere un PC a tutti gli effetti, appunto, e tra i Pro, signori, è un PC. Pertanto possiamo installarci tutti i vari giochi che girano normalmente anche su PC, per cui una quantità industriale. Quindi anche il discorso emulazione, quindi anche il discorso Game Pass e altre piattaforme, come per esempio EA App, EA Play, che vi permette di giocare ai giochi di Electronic Arts, GOG, tutto ciò che potete anche solo immaginare di poter fare su un PC, lo potete fare anche qui. Chiaramente con i dovuti limiti, perché per quanto potentissima sia questa macchina, ecco, definiamo la macchina così non incappiamo in errori, perché viene di chiamarla console perché è portatile, poi però in realtà è un PC a tutti gli effetti. E PC console è una cazzata, eh? Come stavo dicendo, per quanto sia potentissima questa macchina, in sovrimpressione state osservando le caratteristiche tecniche della stessa, facendo le dovute prove e cercando di metterla sotto sforzo, è chiaro che non abbiamo a che fare con un PC con tutti i crismi e che abbia i suoi limiti proprio per via del fatto che deve entrare tutto in questa macchina, che tutto sommato è dalle dimensioni anche piuttosto contenute e persino più maneggevole di Steam Deck. Per quanto riguarda il processore, peraltro, Asus con Rogue Ally ha fatto una furbata, ovvero ha usato la AMD Ryzen Z1 Extreme, è questa la versione che è arrivata in Italia, e che non è custom, oddio, lo è e non lo è, perché sì, è stata pensata principalmente per Rogue Ally, ma sarà introdotto in quella filiera di produzione per cui poi sarà utilizzato anche per Ultrabook e altri, Notebook, eccetera, che saranno sempre di produzione Asus e non solo. E mi drena, mi prosciuga, mi consuma questa batteria. Ecco, ora come ora, per esempio, è accesa da mezz'ora, è passata dal 100% al 65%. Quindi è davvero portatile? Beh, insomma, consuma veramente tanto, soprattutto se in modalità turbo. Se già la mettiamo in modalità silenzioso o prestazioni, tutto sommato se la cava meglio. Ma parliamo di una batteria la cui durata uscilla tra l'ora, l'ora e mezza, e le due ore, forse al massimo tre. Non sono arrivato a tanto. Lo schermo non è OLED, è da 7 pollici ed è a 1080p. È una sorta di via di mezzo tra uno schermo antiriflesso e uno schermo che in realtà riflette anche i miei capelli bianchi e mi permette di specchiarmi. Ma è molto brillante, molto molto brillante, con la luminosità ovviamente regolabile, che ve lo dico a fare, e anche sotto il sole si gioca discretamente bene. Non come con lo schermo antiriflesso totale opaco di Steam Deck, ma ci siamo quasi. Ecco, giusto per rendervi l'idea, in questo momento sta riflettendo il faro di illuminazione che mi serve per le riprese. Quindi è quella via di mezzo non super bright, ma neanche super opaca. Insomma, ragazzi, va bene, soprattutto se utilizzata in un contesto casalingo al chiuso. Abbiamo visto quindi le caratteristiche tecniche che, come vi ho già detto, vi invito ad approfondire su altri siti, su altri canali che ne hanno parlato già in maniera appunto approfondita. Qui ne parliamo da videogiocatori che vogliono giocare con ste macchine e pertanto ci interessa fino a un certo punto. Sappiamo che è potentissima, che consuma una madonna e questo vi deve bastare. Ma parliamo adesso del feeling dei controlli e anche della maneggevolezza del peso e delle impugnature di tutto, signori. Anzitutto si può apprezzare certamente l'estetica di questa macchina di Asus, che anche come materiale di costruzione, per quanto sia sostanzialmente plastica, sembra essere particolarmente resistente, più di quanto non sia Steam Deck. Con delle rifiniture che contraddistinguono quella che è ormai una via di mezzo tra l'eleganza di Asus e anche un po' quell'aspetto, se vogliamo, accattivante proprio per i players. Oltre questo abbiamo un sistema di dissipazione veramente efficace e soprattutto silenzioso, e relativamente silenzioso, anche con le ventole a massimo in modalità turbo. Le levette analogiche si fanno apprezzare e il fatto che siano contornate da delle luci RGB non è che aggiungano poi tanto all'estetica, sono una cosa carina, a condizione però di abituarsi ad averle sempre davanti agli occhi e pertanto giocare distratti. Ma non è un problema assolutamente, perché si possono disattivare con tutto l'aura sync inserito in Armory Crate, che è l'app appunto di Asus, che vi permette, oltre a questo, di gestire un sacco di altre impostazioni. Le levette analogiche godono tra l'altro di un buon gioco, di una buona mobilità, se così vogliamo dire, e anche di un grip decisamente soddisfacente. Così come è interessante e molto utile il grip dietro la console nelle impugnature, che vedete questa texture grip assimilabile a quella del retro di un DualSense, ma meglio, o di un controller Xbox, ma ancora una volta meglio. È un D-pad totalmente esterno alla console, questo pur garantendo una discreta precisione, ha un feeling che non è proprio straordinario, non come il pad di Xbox Serie X, e ancora meglio forse il pad di Xbox One, è il pad, il DualSense, così come il controller Pro di Nintendo Switch, che poi per il resto però non è paragonabile, perché so. I tasti azione A, B, X ed Y, che ricalcano quelli di Xbox come impostazione e come collocamento all'interno della scocca, sono piuttosto comodi, rigidi il giusto, ma non troppo, anche se non aderiscono alla conformazione della console. E questo ogni tanto potrebbe causare, ma qua stiamo trovando veramente il pelo nell'uovo, ma questo aspettatevi da un videogiocatore, potrebbe causare una sorta di incastro del dito, soprattutto se ce l'avete più piccole, paradossalmente, tra la levetta analogica e il tasto A. Gli altri tasti per le varie funzioni, tra cui quello che richiama l'Armory Crate, che è sempre utile perché vi richiama appunto una finestra che vi fa vedere tutte le impostazioni e che vi permette quindi di gestirle al meglio, e subito con questa scorciatoia, sono tutti ben collocati in un posto in cui effettivamente non disturbano. Una mancanza forse è quella dei touchpad, perché è vero, ecco il touchscreen, quindi è un touchscreen, però essendo sotto Windows nella maggior parte dei casi, signori, lo userete con un certo fastidio, perché il touchscreen di Windows secondo me è sempre stato fatto un po' di merda, ma dorsali e grilletti garantiscono un ottimo grip, una certa comodità, per quanto non uno straordinario feeling nell'impugnatura, perché vedete, dovete andare a premere i dorsali, però per i grilletti vi servono appunto i diti medi, che tutto sommato normalmente appoggerete qui dietro, almeno questa è la sensazione che ho avuto io, quindi per andarli poi a recuperare, per poterli andare a premere, non so, la mano si muove in una maniera leggermente innaturale. Così come ho trovato non proprio comodissimi i due tasti sul retro, che sì, garantiscono un aspetto più pro a quello che è il controller inserito in quest'unica scocca che fa poi la macchina in sé. Però non li ho trovati comodissimi da andare a premere e nella maggior parte dei casi, essendo anche piuttosto premibili facilmente, si vanno a chiamare in causa anche quando non voluto. Discorso che è relativamente sufficiente quello di tutto ciò che riguarda appunto le porte, che sono situate sulla parte superiore, insieme appunto alla reazione. La reazione è ottima, il jack messo sopra, che mi deve passare poi da sotto per poterlo utilizzare, quindi mi fa sprecare quei pochi centimetri di cavo e comunque mi sta un po' sulle balle, per i jack io onestamente preferisco sempre e da sempre che sia posto qui sotto. Come vedete però qui sotto non c'è nulla. Questo perché probabilmente per la conformazione interna, per la struttura interna, anzi architettura interna della macchina, hanno preferito, oppure sono stati costretti, a optare per una situazione del genere. Non è una cosa gravissima, soprattutto perché magari utilizzerete degli auricolari Bluetooth, pertanto risolverete il problema. Questo è l'attacco proprietario di Asus che permette di collegarla a una scheda video esterna per poterla usare potenziata su un televisore, che è una cosa che lascia un po' il tempo che trova, perché se devo fare un'operazione del genere, a quel punto attacco il PC e gioco. Però sapete, se uno dice io ho solo Rogue Online, non ho altre macchine per giocare, e allora posso fare questo investimento, di usare una scheda video esterna, una GPU esterna con tanto di macchine e di scocca, l'abbiamo già vista in un altro nostro prodotto esaminato, sul secondo canale, che va appunto a potenziare le possibilità grafiche della macchina e che serve anche come se fosse un PC collegato a uno schermo a tutti gli effetti. Tuttavia l'USB Type-C è inserito all'interno di questo attacco proprietario, il che lo rende un attimino fragilino, perché in questa sorta di mini scocca di plastica è non separato da questo contesto in magari una scocca in metallo o qualcos'altro. I controlli del volume sono disposti piuttosto bene, così come la spia della batteria e dell'accensione, e poi abbiamo appunto il tasto dell'accensione, che è dotato anche di sensore rilevatore dell'impronta digitale. E ovviamente il vano per le microSD per espandere la memoria. A tal proposito, se volete aprirla, e qui chiamo in causa di nuovi ragazzi dei Pro di Geek, potete farlo in una maniera abbastanza facile, anche se non ve lo consiglio se siete alle prime armi, per poter cambiare il microSD, e l'operazione da fare effettivamente è di una facilità disarmante. Ma fatevi aiutare da un grande, usate sempre le forbici dalle punte arrotondate. E i cacciaviti, che quelli no, non sono dalle punte arrotondate, semmai a stella, ma se lo ha ziccato in un occhio fa male. È molto leggera, è molto compatta, e a tal proposito ho fatto dei test che secondo me non troverete da nessun'altra parte su YouTube. Spero. E vabbè, casomai sti cazzi. Vediamoli. Ok signori, procediamo con l'interessantissima prova cesso. Vi do la prova che è il cesso. Eccolo. Sì, gran bel gabinetto. Comunque starò diversi minuti per vedere quando è che cominciano ad addormentarsi le gambe, perché io insisto con i gomiti sulle cosce, non senza tensione muscolare, quando gioco così. Attenzione però, perché ho pure una gabola, perché io ho il mio sgabello, che uso anche per usare il telefono in bagno. dopo mezz'ora trascorsa qui dentro e con la finestra chiusa, il che è tutto dire, devo dire che tutto sommato la gamma non si è ancora addormentata, a condizione però di posare roguelai ogni tanto sullo sgabello tattico. Va bene, promosso. Altra prova fondamentale per un videogiocatore che voglia definirsi tale, che voglia giocare con una portatile, prova a letto. E attenzione perché io solitamente sto così a giocare a letto, devo dire che le braccia si stancano, eppure sono pure allenato, sto facendo palestra, si stancano. E che la verità è che sta posizione si stanca uno con qualsiasi cosa, cioè è inutile pure col libro. Dai! Solo che a differenza del libro, se poi vi casca in testa questo mentre state giocando e vi addormentate, so cazzi. Nel mio caso più che altro avendo la testatura sono cazzi per il monitor, anche se sembra veramente piuttosto resistente. Proviamo un'altra posizione. Altra posizione che può essere interessante, può essere questa effettivamente. La zona addominale ne risente un po'. Wow, si è spenta ragazzi, è scaricata la batteria. Un'ora e mezza di batteria. La zona addominale ne risente un po', i gomiti, bicipiti, tricipiti, la zona lombare ne risente anche. Togliamo il cuscino e vediamo se possiamo metterla così. Vabbè, però così viene da giocare di merda. Sentite ragazzi, si comporta bene tutto sommato, la verità è che queste posizioni sono sempre scomode e alla fine a me finisce a giocare tipo così. E con conseguente console, signori, che cade per terra. E no, una cosa di 800 euro non la faccio cadere a terra. Non ci giocherò mai a letto. Sì, insomma, la sensazione è che non faccia stancare le braccia poi più di tanto. Addirittura con Nintendo Switch, nonostante pesi forse un po' meno, mi ritrovo a stancarmi di più, perché comunque Nintendo Switch ha un'ergonomia che lascia parecchio il tempo che trova, perché è stata sacrificata sull'altare della comodità di poter staccare i Joy-Con. E questo lo sappiamo. Al di là di queste cose, al di là del fatto che abbia una potenza mostruosa e non si sono regolati proprio, però consuma tanto, tantissimo ragazzi, tantissimo di batterie, questo l'abbiamo già detto, ma è bene ribadirlo perché è ripetita Juvent, soprattutto se volete acquistarlo in ottica portatilità. Come si gioca però su questa benedetta macchina? Cioè, io posso sfoderare tutta la potenza di questa macchina appunto portatile per potermi giocare i giochi di gioco su PC alla stessa maniera? Beh, no ovviamente, perché ci sono dei compromessi. È vero che ha 8,6 teraflops e considerate che PS5 ne ha 10, ma non sono solo i teraflops a esprimere la potenza totale di una macchina, perché comunque dobbiamo fare i compromessi dovuti al fatto che sia comunque una macchina portatile, ma in assoluto è la più potente macchina portatile. Per quanto si giochi poco, perché appunto la batteria dura molto poco e durante le mie sessioni ho dovuto collegarla più riprese alla presa di corrente, ho provato a testare questa macchina con God of War del 2018 in versione PC. Mettendola a ultra, chiaramente, gli FPS si attestano intorno ai 20 e addirittura certe volte anche 15, ma utilizzando dei buoni compromessi, sempre in modalità turbo dal nostro Armory Crate, riusciamo a giocare in modalità originale oppure smanettando con le varie impostazioni a 1080p con un discreto frame rate che va dai 30 addirittura ai 55. E con una resa grafica che rende meglio proprio per via del fatto che un piccolo monitor e pertanto tutto sommato certi difetti, certe cose che vedreste sul vostro televisore OLED a casa di 77 pollici, ce l'avete tutti su Via, qui magari non li vedete, fate meno caso ad alcune texture, ad alcune imperfezioni, quindi è un compromesso che ci sta. E comunque non c'è scampo, la macchina più potente, mi viene di dire console, è la macchina più potente, quindi meglio di questa, sotto questo punto di vista non ce n'è. Però se vogliamo, visto che alla fine si devono fare dei compromessi, forse l'idea di Steam Deck di far spendere meno ai consumatori, farla con dei materiali meno raffinati e comunque decisamente meno potenti di Rogue Alley, però avere una situazione che a 10 W ti consuma meno, per quanto la batteria di Steam Deck non è che sia una cosa eccezionale, e ti fa giocare comunque in condizioni accettabili anche i titoli che abbiamo appena visto, ecco, mi viene da pensare perché comunque dovrei prenderla se poi non posso mettere tutto a fottuto ultra? Sembra come se manchi un tassello, cioè come se effettivamente abbiano voluto fare una cosa ultra potente e poi però alla fine, perché cosa? Per giocarci un po' meglio, perché di base comunque abbiamo dei compromessi, e soprattutto con la batteria che si drena, che sgosciolerà proprio sotto la... scompare, scompare totale in un'ora e mezza se giocate appunto con prestazioni a turbo e se giocate in maniera intensa, quindi... ottime le casse, cioè l'audio è una cosa straordinaria, meglio di qualsiasi altra macchina portatile che abbia mai potuto provare, perché ha quella sorta di virtual surround, adesso lo sto dicendo così a braccio, ma sicuramente troverete maggiori informazioni su questo, sul sito ufficiale, che è veramente avvolgente e riesce nel suo intento garantire un'esperienza ludica dal punto di vista audio straordinaria, e non soltanto, anche se volete guardare qualche film oppure se volete guardare qualche video di Player Inside, l'audio è veramente ottimo, oltre al fatto che le casse sono veramente potenti in un contesto del genere. In definitiva la consiglierei? Beh sì, ma non a tutti. Cioè mi sento di consigliare a chi fosse appassionato di queste nuove macchine che sono una via di mezzo tra PC e console, o sono PC che si sentono delle console, o delle console che poi effettivamente sono dei PC, insomma fate voi, mi sentirei di consigliare Steam Deck a chi voglia solo giocare, accendere Steam Deck, accedere a Steam e poter giocare con la propria libreria di giochi Steam. Qui la stessa cosa si può fare, perché un PC, esattamente come su PC avviate Steam, lo avviate pure qua. però ci sono tutti i pro e i contro di avere a che fare con un PC vero e proprio, con Windows, e quindi quei limiti congeniti di un PC per la serie vi chiede il riavvio dopo l'installazione di qualcosa. c'è tutto Windows da tenere in considerazione, quindi con tutte le notifiche, con tutti gli aggiornamenti da fare, OneDrive, tutti questi bordelli qua, che con il touchscreen non è che risulta proprio comodissimo, però chiaramente sotto questo punto di vista è come se questa console, scusate, questo PC portatile, questa macchina, dicesse smanettoni, io sono qui per voi, fatemi quello che volete. E quindi da questo punto di vista è una cosa già aperta per la serie ci posso fare veramente di tutto e abbiamo capito che cosa intendiamo per di tutto. Di tutto, 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 esattamente come si fa su PC. Pertanto, che ve lo dico a fare? Cioè, gli smanettoni avranno già deciso. Il costo è più alto, stiamo parlando di 799 euro per l'Italia, ma è un costo che secondo me può valere la spesa, ma per chi voglia solo giocare, e per chi non sia particolarmente smanettoni o emulatore o quant'altro, Steam Deck può essere magari una scelta più adatta, anche perché costa meno e fa quello che deve fare senza strafare. Questo strafa, ma allo stesso tempo serve davvero che strafaccia? Sì, per gli smanettoni. Se non siete smanettoni, anche no. Posso dirvi in tutta sincerità che per quanto io sia appassionato dei prodotti della serie ROG di Asus, e non soltanto della serie ROG, io ho praticamente sempre acquistato quasi tutto Asus pertanto posso dire di essere fan di questi prodotti, anche perché sono di qualità in dubbia. Però tra tutti i prodotti Asus, anche includendoci dentro il ROG Phone, questo è quello che mi piace meno, che mi fa sentire qualche sbavatura. Insomma, avete capito il discorso, signori? Dai, farà sicuramente per quelli che sono più appassionati di me a questi gingilli, un po' meno al videogiocatore che vuole accendere, giocare e basta, per cui c'è già Steam Deck, ci sono già tante altre opzioni lì fuori, a disposizione, più economiche, molto meno potenti, ma più economiche, ma molto meno potenti. Grazie, alla prossima, signori. Grazie a tutti.